Riccardo Muti è il vincitore del premio Repaci Speciale Viareggio 90. Il premio verrà consegnato al maestro nel corso della serata finale, il 24 agosto al Principino di Viareggio, quando la giuria sceglierà tra i tre finalisti di ognuna delle sezioni, narrativa, poesia e saggistica, e proclamerà il vincitore per ogni categoria. Toccherà poi a Walter Veltroni, con un intervento dedicato a invitare sul palco ciascun vincitore dei premi speciali e illustrare le singole motivazioni. Oltre a Muti, gli altri premi speciali andranno al fondatore del Quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, all'ex ministro per la funzione pubblica e giudice merito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, a Gino Paoli e a Marco Bellocchio.